Ora sono dimagrita quasi 14 kg, mi sento benissimo, ne ho provate tantissime di diete, ma proprio le conosco tutte, da l'A alla Z, ma questa è proprio irraggiungibile, nel senso che è indescrivibile. Fino adesso ha funzionato solo questa, anche quando mangi i cibi hanno tutto un altro sapore, cioè senza sale, soltanto con le spezie consentite, io non l'avevo mai provato prima. Che proprie amiche amiche sono felicissime per me, di questo cambiamento, però no, anche le persone accanto a me, ma poi quando racconto quello che mangio non ci crede nessuno, ma è impossibile, no è così, loro non credono che magari io a colazione possa mangiare o le patate fritte, o gli spaghetti, o le melanzane, oppure che non debba pesare nessun alimento. Ma no, ma in tutte le diete bisogna pesare, bisogna avere l'olio, quel burro non si può usare, non si può friggere, dico, eh, io invece sono fortunata perché posso fare tutto questo. Il consiglio che potrei dare è innanzitutto di guardarmi, perché come ero prima e come sono adesso. A grandi linee glielo spiegherei come funziona la dieta, però io anche il consiglio che ho dato a una persona che me l'ha chiesto, ho detto appunto di andare in farmacia e di prendere l'appuntamento con un consulente che poi avrebbe spiegato come funziona la vostra dieta. Ciao! 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 Grazie a tutti.